E' il Carnaval! Bambini e bambine, il Carnevale quest'anno è al centro commerciale Piazza Umbra di Trevi. Da sabato 31 gennaio a martedì grasso il 17 febbraio, animazioni e giochi, pirati a bordo di galeoni, spettacoli di marionette giganti e sfilate di mascherine faranno la gioia di grandi e piccini. Il Carnevale di Piazza Umbra vi aspetta! Grazie a tutti!